Attenzione tutta rivolta alla stesura dei calendari per l'imminente inizio della nuova stagione calcistica, fissato per il 9 e 10 settembre. Ieri a Napoli il comitato regionale della FIGC ha reso noti la composizione dei raggruppamenti e le date e le partite che vedranno protagoniste le 32 squadre che andranno a caccia della Serie D. E per il Valdiano si prospetta subito una sfida di grande fascino sul campo della Battipaiese guidata dall'ex timoniere Ciccio Tudisco, protagonista della storica promozione degli Azzulgrana in eccellenza. Lo start per il team caro a patron Carmine Cardinale non sarà quindi dei più semplici considerando anche che dopo il debutto ci saranno le sfide con la neopromossa Virtus Avellino che ha operato bene in sede di mercato e con un'altra erpina all'insidiosa Eclanese. Arriverà poi il faiano del direttore generale Mario Bracco di Polla ma la parte più tosta per la truppa di Criscuolo giungerà nelle ultime quattro giornate dalla dodicesima alla quindicesima quando in sequenza il Valdiano dovrà affrontare l'Audax Cerminara e a seguire due trasferte con Sorrento e Castel San Giorgio per chiudere l'andata con l'agropoli di Ciro de Cesare. E con questa gara si concluderà la prima parte della stagione che vedrà i valdianesi impegnati sette volte in casa e otto fuori. Il ritorno si aprirà il 7 gennaio 2018 e la stagione si concluderà il 22 aprile per poi dare spazio ai playoff e ai playout. Ripartirà proprio dalla Virtus Avellino la rincorsa dell'agropoli. I delfini di De Cesare saranno in Irpinia dopo il successo in Coppa Italia contro la Poseidon e l'arrivo continuo di rinforzi che dovrebbero cancellare l'amarezza del mancato ripescaggio in Serie D.